A seguire una tempura, un cannelloni! La polvere di ibisco gli darà vivacità. Restiamo sul balsamico. Nella mia brigata si fa come dico io. Hai piaciuto o no? Domanda sbagliata. È la domanda che tutti gli chef dovrebbero porsi, mi scusi. Va bene, io sono fuori. Il lavoro non manca. Sì, ti ricordi, mi avevi dato il tuo biglietto da visita. Ciao, sono Katimari, come stai? Allora mi richiami tu? Cerco Lorenzo Cardi, è per il posto da chef. E il ristorante è pieno di charme? Ma è qui, all'interno del centro di accoglienza. Che vuol dire? Ci sono dei minori in attesa dei permessi. Dei migranti, abbiamo un po' colorito. Benvenuta al centro. Se hai bisogno di qualcosa, bussa alla mia porta. Buonanotte, Angela. Se parlo così, mi senti? No, poco. Appena, appena. Che incubo! Ha visto lo stato della cucina? Non posso servire 70 pasti da sola. Se hai bisogno di aiuto, chieda ai ragazzi. Non aspettano altro. Siamo arrivati! Così non può funzionare. Quanti sono? Te l'avevo detto. Sono motivati. Lì trovate i taglieri e qui i pelapatate. Cos'è un pelapatate? Ma non sanno fare niente. Eh sì. Questa è la coda, questa è la testa. È così che si fa, ok? Cos'è questo? È stiloso. No, non è stiloso, è sporco. È un percorso arduo quello per diventare chef. Arduo, chef. Significa difficile. Vendimi il tuo tatacchi di manzo. L'incontro dei sapori di mare e di montagna esplode sul palato e fa il giro della bocca. Non ho capito nulla. È magnifico, no? Come va il lavaggio dei piatti? Arduo, chef! Perché noi siamo lì, perché noi siamo una brinata! Sarà un disastro. Lo sento che sarà un disastro. L'incontro dei sapori di mare e di montagna è desiderato. Cos'è? Resposta a due nu. Cos'è? Grazie a tutti.